La nostra regione anticipa l'Europa. A marzo Bruxelles ha varato una storica direttiva via e fuorilegge dalla 2021 le stoviglie in plastica, un modo per ridurre i rifiuti in mare che per l'80% sono appunto costituiti da plastica. Ma i 900 stabilimenti balneari della costa toscana, dai confini con la Liguria fino alla Maremma, saranno plastic free già da questa estate. Addio dunque ovunque a piatti, bicchieri, cannucci e posate monouso. Regione ed esercenti assieme ai comuni hanno firmato un'intesa portata ieri in giunta dall'assessore alla presidenza per mettere al bando le stoviglie monouso. Si potranno smaltire ovviamente le scorte già acquistate ma poi esse dovranno essere sostituite da piatti, cannucci e bicchieri biodegradabili o comunque biocompostabili e chi non lo farà rischia una multa. Non solo, anticipando gli obiettivi della direttiva europea ed anche il governo nazionale che al momento non ha legiferato in materia, la nostra regione si sta preparando perché già a partire da settembre si preveda l'esclusione della plastica monouso presso le menze delle strutture regionali, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti del servizio sanitario. Il divieto che scatterà, come detto tra pochi giorni, non comprenderà almeno per adesso le bottigliette in plastica. Per ora infatti vi è una sola azienda in Italia che le produce in materiale ecologico. Con un divieto dunque si creerebbe un ingiusto monopolio. Tutto in questo caso è rinviato all'anno 2020. Intanto però si potrebbe partire con alcune sperimentazioni, magari fornendo distributori d'acqua da riempire con borracce lavabili e riutilizzabili. In alcuni bagni della Forte dei Marmi già lo si fa. Il problema della plastica in mare è enorme e bastano solo pochi numeri per capirlo. Si stima infatti che ogni anno sono prodotti qualcosa come 280 milioni di tonnellate di plastica e che da qui alla 2050 la cifra, se non cambierà qualcosa, rischia di raddoppiare. Almeno 8 milioni di questa incredibile somma finisce nei mari di tutto il mondo, compreso il Tirreno. A vigilare sul rispetto delle norme che saranno recepite dai comuni, ci penseranno gli agenti della Polizia Municipale. L'accordo prevede anche la installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle spiagge libere, non oggetto di concessione demaniale.